Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto sappiate che non possiedo denaro. Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera che fanno di me un incubo per gente come voi. Se lasciate andare mia figlia la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. Scusate ma non è la pizzeria? Nei rosei ma che cazzo di numerata?